Ciao amici, buona domenica. Allora, sono sempre in ritardo come il mio solito, però anch'io voglio dire la mia sul referendum di oggi. Ovviamente io voto sì, perché non posso accettare un po' tutto quello che continuiamo comunque a fare. Il mio punto di vista è che la Terra è la nostra mamma, è un pianeta meraviglioso che ci ospita, che ci aiuta ogni giorno se la sappiamo ascoltare, se la sappiamo sentire e percepire. Io penso che l'uomo stia andando veramente oltre in tutto e per tutto. Quindi il mio voto è sì, non voglio assolutamente che si vanno a toccare fondali marini, anche perché l'hanno già fatto. Non sappiamo mai realmente quali sono i danni che si stanno facendo. Già abbiamo bucato tutta la Terra per trovare il petrolio, ma io sono dell'opinione che il petrolio se è presente nella Terra è perché serve qualcosa. È un po' una linfa che appartiene alla Terra e che serve alla Terra. Quindi tutto quello di cui abbiamo bisogno noi ce l'abbiamo già, anzi noi abbiamo già tutto e di più. Quindi il mio voto è sì, voi fate quello che pensate sia giusto per voi. Però mettetevi una mano sul cuore, mettetevi, io guarda mi sono messa sotto un albero del melo, vedete che è già in fioritura, se Dio vuole. Se ascoltiamo la Terra questo voto non potrà essere mai no. Quindi buona domenica e buon referendum a tutti. Ciao!